Bella raga, bentornati. Allora, turno dei gol celtanam, fuori casa. Anziché siamo durati fino al turno 3, lo scorso anno eravamo arrivati al turno 2, poi ci hanno cacciato, ci hanno eliminato più che altro. Non ti preoccupare buio, lo può succedere a tutti, un giorno no. Andiamo a giocare questa partita, questa fantastica partita. Sdereniamoli, cambia maglia. Migneri oggi lo vedo a pallettoni, eh. E vediamo un po' qua. Allora, Cassetti lo facciamo riposare, facciamo girare un po' la squadra, diamo un'altra opportunità a Puyol. E direi va bene così, dai. Chiaga, mi dispiace. Contento, dice contento che ho qua la faccia. Vabbè, andiamo. Uccidiamoli. Noi non c'è un autobus più bello. E faccia la quattro, eh. Ma capito che c'è Ficorelli che sta a pallettoni. Stupidi. Stupidi, credi mica di schiavi. Un saluto da Piero Gipardo con me, come d'abitudine, Leli Adani per il commento tecnico. Guarda, rosi che piedino. Calma, calma, calma. Italco. Mamma mia, Migneri. Cambia tutto, stai. Bravissimo. È buono dal campo amico. Oppure se il pubblico di casa riuscirà a trascinare la propria squadra, ha un traguardo che appare tutt'altro che facile. Tocco di ritorno. Attenzione, attenzione. La cazza. Non si gira. Recupererò bene il pallone. Perché partono sempre col contropiede Cristo Dio? Bravo, Italgo. Non così però, Italgo. Bravissimo, Francisco. C'è grande attesa per la sua prova. Potrebbe essere tra i candidati... Mannava il capitano. Non corre il capitano oggi. Bravissimo, Riese. Lo prende anche in giro. Dai a Minieri. Minieri. Si è addormentato. Fai a battare, Riese. In mezzo, Riese. Andiamo a sapere a questa serie B, porca madosca. Francisco. Ce l'è il piedino, Francisco? Non devo vedere quell'altro colletto. Che go che ha fatto? Mamma mia. Sembra Zedorf. Zedorf con l'armadrid. Bravo. I tetoshi. Si gonfia la rete. Che acquisto pure questo, regà. La regia ci ripropone l'azione del gol. Possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro al compagno. Un gol facile facile, ma non è il posto giusto al momento giusto. Ed ecco dunque, arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Speriamo che non si estranisce Santos perché faccio giocare a titolare Nakata. Se si estranisce, dici sti cazzo, come nemmo? Mamma mia, bravo Rossi. Occhio a Rossi. Mamma mia, per pochissimo Sergio. Ma Francesco. Hidalgo è alto un metro e mezzo, l'abbia pure di testa. Un mostro. Vai Francesco. Per chi era? No. Per poco. Amo fatto. Mamma mia, ho vista dentro. Taccata al cazzo, mei. Lo conosco, mei. Ce l'avevo a Layton quando facevo la carriera con Layton. È un maledetto. È un maledetto. Uccidilo. È buona. Ripartiamo. Parti Valè. Non così però, i detoshi. Viano. Guarda questo tanto è passato. Sbagliano ancora gli avversari. Mamma mia. Bravo a servire i minieri. E fa' te sto, vaffanculo. Bravo Valè. Ma che angolo, bastardi. Rise, non si passa con Rise. Super Mosca. Dice no. GSA sotto assedio. Da qui non si passa. Devono sfruttare bene questo corso. C'è Mosca però. Botta giusto cazzo di pallone. Bravissimo Dario. Era partito qui. Rigorelli stava lì. Come un falco. Primo tempo un po' così. Siamo sotto assedio. Avanti. Non si cambia nulla. C'è il segnale dell'arbitro comincia il secondo tente. Bravo, sir. che famo? Capisce tutto il recupero. E dai, no. Ma Nakata, ma che era? Bravo Nakata. La prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Calma. Calma adesso. Bravo Francisco. Per Hidalgo. Hidalgo, cosa fai? Cosa fai? Palla riconsegnata agli avversari. A riconquistare il pallone con un tackle deciso. Bravo Christian. Con una rimessa dal fondo. Ecco il cambio per provare a rimettere almeno in parità la gara. Oh. Ma che sei scemo? Marese. Questi spingono. Buttavi a Puyo. Mancava la presa. Vicorelli. Che non ha toccato un pallone o che sia uno. Fuori. Vicorelli fuori. Non era in giornata oggi. Minieri. Vatti a riposare. Entra Santos come seconda punta. E Kelly. Come trequartista. Contrasto deciso è il piccato. Santos è riadrizza c'è sta partita. Bravo Stefano da tutte le parti. Eri se. Mamma mia picorelli meno male che muo esci. Ma che hai fatto? Che cosa è successo? c'è spazio per andare. Bravissimo Italgo. Meno male che ci sei tu. Dio nave. Può scegliere chi servire. Regà. Guarda Puyol. Mamma mia si è fatto saltare come in birillo. Ma riga il settantesimo. Questi ce lo fanno. Puyol non si sa che sta facendo. Non si sa proprio. Replay che mostra come il gol si ha furto di un pressing ben portato e efficace. Hanno ruperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol dell'1 a 1. Dai ragazzi. Ha saltato l'avversario. Hai amere Zezer. Arise che cazzo. Che cazzo. Questi ce ne fanno un altro. Bravo bravo. Un po' legnosi oggi. Macchinosi direi. Lo sapevo bastardo. Puttaggio Gris. Com'era la potenza è nulla senza il controllo. E qui l'ho dimostrato. Alzando troppo la mira. C'è stanno a giocare solo loro. A campo sulla fascia. Bravo. Adesso. Un po' legno che sfuma. E minaccia sventata. L'arbitro ha concesso un solo minuto. Dai Santos. E' buona. E' buona per Italgo. 3 contro 1. Buona Menezes. E' sempre lui. L'uomo del novantesimo. Ancora una volta. Sono tre partite che segna 4. Arnovantunesimo. Dai è così. Bravo Italgo. Bravo Alessandro. E andiamo. Andiamo così. Abbiamo passato il turno. Chi è il peggiore? Pugliel. Mi sa Pugliel. Pugliel 6.3. Kelly 5.5. Mentre la domo. Pugliel.